sapete che io ho aperto il concerto dei Rolling Stones? che cazzo è scritto? dai che cazzo è scritto Anna? che cazzo mi ha scritto Alexi? cos'è? perchè non puoi dirlo? che hai detto prima della live? che andiamo a parlare? che hai detto prima della live? anche tu vieni non è per Valentina ragazzi non sono andato con Valentina eravamo io Alexi consta l'altro devo passare la musica devo passare la musica? dai farai sincero dammi un voto in voto? dai si si otto e mezzo eh lui pulisce tutto, lui pulisce la pulisce la parola, però sincero no però sincero fammi fare un attimo però sincero fammi fare un attimo che cazzo fai? ma che cazzo fai? ma ho capito ma stavo passando a rotti coglioni belle le scarpe? aaaaaaah go no ragazzi li faccio, non li faccio non li faccio, non li faccio guarda non vale, non puoi usare le bani al massimo la bocca no scherzo 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 partiziano 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 qui mi devi fallire uuuuh vai vai uuuuh che troia? no ca troia oh le mani insolte che fiii potete toccare i piedi con quelle mani oh mi piace nooo oh tu toccami la maglia di novella te lo giuro in questi esalti inizio a ballare un lento ma non è una piatta proprio allora continuiamo allora è schifo no 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 mi piace 4 ma ancora 2 6 4 ma questo è un segno nooo ma è tutto nero non mi piace ma lo telecom dai vuoi ho piano 5 c'è il vetro 5 5 arca puttana troia va ok no 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 era tutta c'era arca puttana quanto ha messo? ha messo 50 ha messo 50 60 67 uuuuh uuuuh senza me hai risposto un po' sull'altro ma è la maglia di novella usata no ho sentito eh no ma è la maglia di novella usata nooo è rimodinio è rimodinio diciamo come piacere si vuole piacere la conoscete più? si guarda che però è esercizzata scusate adesso mi metti qua a passare il gioco manca la tira e NCO ma cosa sei qua fare ancora? ma sai che ore sono? eh? andiamo a casa stai facendo la live rosso stai facendo una live un attimo ascolta si ma sai che ore sono? ma si dai tu devi fare una cosa mi ha seguito fino a fuori ma gli ha letto ma io? si e lui viene a casa hai capito? ma andiamo a letta assieme ma sai che ore sono? è lui papà che mi ha detto di venire qua ma è stato lui? si si no no mi ha invitato qua papà ho detto mi ha invitato qua e ho detto ma fa che cosa? mi segui ascolta un attimo ascolta io non so che cos'è qua fare no eh? cerchiamo di chiarirci subito eh? lui adesso prende con me e viene a casa perchè anche l'ora di venire a casa non capiterà due sto qua cinque minuti e tre ore che è qua sono le 10.45 tu è arrivato? non mi interessa adesso mi prendi no ma sono sempre con noi vieni con noi sei due minuti va 5 minuti andiamo non prende troppa confidenza non sei mio fratello tu eh? ok? va bene? eh hai capito? eh scus'è l'interista si forza l'Inter 2-0 2-0 ieri erano stadio erano stadio? eh erano stadio si ma ieri avete beccato lazza? si si ti hai riconosciuto? si appena l'ho visto mi ho gridato ti è andato a piacere? eh è stato lui il primo l'ho incontrato ma l'aveva piaciuto mai all'altro insomma mavera in verità l'ultimo cioè mavera era serio che voleva prenderla sempre no e lui cioè lo conosciamo però conosco anche Mambolosto però però possiamo dire che non c'è nessuno né Mambolosto o Nicolazza ecco io sono sposato cioè mica hai sposato? perchè non sto qui? ma di pancia 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 che puzza si sente che odore che schifo è ma schifo ma schifo se l'è fatta dentro io ma dai ma dove sei portato? ma senti che odore ma che schifo io vado a casa guarda 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 bro tutto il posto c'è un odore stavano ma devi venire dentro a vedere qui arrivo un attimo io non lo porto guarda te lo aspettiamo fuori ma finissima dai se vuoi sentire che è dentro dentro il cesso ma dove mi hai portato? eh? non me l'aspettiamo ma la fa radio io aspettiamo non bisogna non dire ma cosa devo aspettare? c'è un segno di cazzo sto dentro quando ha finito viene fuori no? vabbè devo finire un'altra intervista poi vi lascio andare venite un attimo no ma come venite dentro? io lo faccio un altro giorno no no ma come venite? ma come venite? finiamola 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 finisimo davvero basta mi saluta basta entrate ma adesso ti schifo finisimo basta ma facciamo l'intervista qua finita me da dentro dai No, no, d'oltre no, dai, vieni di sopra, se non è vero, perché qua c'è bene. Ah, no, la luce, la luce. No, 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 è finita qua. Non c'è più buzza. Non c'è buzza. Vieni fuori, vieni fuori. Vieni, no, no, qua. Vabbè qua, vado dentro del cesso dei giorni interviste. Che schifo. No, papà, papà. Va bene, no. Vieni, no. Mi sei rotto l'escovo, no. Senti che putt' ti c'è. Pasta, dai. Il gioco è bello quando è corto. Adesso basta. E stiamo sannando? La finiamo sopra. Magari finisci di scaricare. Devo darti una notizia bruttissima. Qual è la notizia? Sono sempre io a darti notizie bruttissima. Che è successo? Rovella non viene. Non viene Rovella. Perché? Non mi ha detto che non c'è. Non riesce a venire. Mi spiace. Portano un attimo a letto. No, qui c'è tutte le mani sporche. È appena andato a centro. Sono pulito le mani. Adesso andiamo di là. Devi piangere perché non viene uno adesso. Rovella. Ma chi è Rovella? Io non lo conosco. Che bella è. Ma che odore, scusa. Ma no, no, no. Ho capito prima. Ho capito prima. No, bro, bro. Ma sta spruzzando qualcosa lui? Non lo so. Che puzza così tanto? Ma perché non ti scusa? Awed? Awed! Bravo, Awed. Guarda, Awed. Ma non è che... Non è che... Come laomincio stava il fatto! Grazie, Awed. E' mangiata. Facciamoci una foto di guarda, così. No, non c'è più buzza, davvero. No, 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 no. Attosso a me! Basti! No. Siamo bloccati. Ma intosso a me! no, non lo fai più, basta, 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 basta no, allora hai due ufficioli si, ho messo lo stipendio no, Alexi, ho messo lo spari in faccio di quanto lo stipendio? 2k adesso, scegli tu scegli boh, sincero boh, spruzzalo no, hai visto? sono Matrix bro bro, sono Matrix io adesso vado, se entro 10 20 minuti tu e lui, non uscite mi vengo a prendere per le orecchie, ok? perché adesso basta, adesso basta, ok? io tra 20 minuti vengo e prendo sia te e lui per le orecchie e mi porta a casa no, no, no ci siamo capiti, adesso basta, ok? è stato un piacere no, mamma mia, non mi ero pulito la mano dai 25 25, va ho detto 20 minuti, basta 20 minuti? adesso non è quella cosa della mano vieni qua, vieni qua, trafino, stai anche te con noi Raffaeleau! Raffaeleau! no, Molto! Sai che è stato? Il tuo cazzo enorme Ci arrivo, si vengo! Proprio serio? Dio, Dio Dio Dio! Ma la prima che scende! Vai, 3, 2, 1 Oh, che fai! Ma voglio! Dai, non si è! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 no! Mi faccia il duro gradino in più però! Senso hai male nulla! Oh, 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 oh! Fra, fra, fra! Fra, fra! Fra! Toro subito a te! Ma che si no lo sai! E di tutti i miei guai! E lo sa che lo sai! Ma lo sai che lo sai! Ma che non lo sai! Ma si che lo sai! Eh ziii! Finche! a morire un morto è la maglia di rovella anche se non lo sai eri di tutti i miei guai non so dove stai ma che cazzo fai ti sei resa conto che mi hai fatto male davanti a centinaia di persone eh ce ne sei tu e tu guardi così a una donna davanti a centinaia di persone io davanti a una nonna sarebbe una tratta come un fiore tutto bene fra? è passato? è passato il cagotto questo? no 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 calma ma mi stai dicendo addosso si hai perso gli occhiali è interessato mi ha detto io hanno accetto sempre i danzati vuoi dire qualcosa ho detto hanno accetto la cultura futura futura non si sa poco et 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 sapete quali sono i tuoi punti maggiori per ottenere il 5G in Italia i capezzoli di Anna